L'associazione Cilento Gastro Festival comunica che in data 11, 12 e 13 agosto 2016, a partire dalle ore 19 e 30 presso la frazione Pattano in Vallo della Lucania, Salerno, si terrà la quarta edizione della manifestazione Strasapori, festival internazionale del cibo di strada. L'evento, unico nel suo genere, vedrà impegnati 32 stand gastronomici che rappresenteranno 10 nazioni, 5 regioni italiane e le antiche specialità cilentane. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il festival si arricchisce grazie alla collaborazione di diverse personalità del territorio, che presentano il loro servizio per migliorare la qualità dei prodotti e delle specialità presenti all'evento, definito il Piccolo Expo. Le nazioni che rappresenteranno gli stand presenti all'evento sono Italia, Germania, Spagna, Uruguay, Venezuela, Messico, Stati Uniti, Grecia e Cina. Farà da contorno all'intero festival la musica popolare cilentana.